Buongiorno Buongiorno Acabo di smentarmi Oggi faremo un video fino in quarantena Io ho due piso Uno fuori di Barcellona e uno qui al lato della pizzeria L'altro è più grande e questo è più piccolo Per stare al lato della pizzeria come lì non posso irmi quedo qui in questo piso di merda è piccolo Un'abitazione Questo è giusto per stare solo al lato della pizzeria Non tengo nicotina qui in macchina Guarda la cucina di merda Solo che come sto al lato della pizzeria mi va bene e ora mi devo chiedere qui Primero facciamo un bel caffè Facciamo un bel caffè Per la caffeina Per l'energia Oh 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 Da un lato Un pocino di azucar Mirai tío Per l'energia Che ora è? La nuova della mattina La nuova della mattina Com'è? Tanto non tengo prisa Non tengo horario Allora che faccio per la mattina Mi levanto Mi bevo il caffè E com'è? A regolare un po' A stare la cama A chi è? Cama? Sofà? A chi è? Ventilare il peso Ciao Mirai che spettacolo Mirai Poi lì sta il mare Lo vedi se è il mare? Bella Ma che bella vista che tengo Spettacolare Mirai che mare Oggi sta calmo Eh? Vai a merda Ne hai vista? Caccio Ma come cazzo se pega Sta merda Caccio Vai a merda Ti Ma un po' il culo Ma una cosa a meno Ora Vamo a chitare un po' il polvo Ma capirà Mi sento un po' il culo a capirà Va bene Con l'allegra Così si lavora eh? Così Ora ordino ad ora Per vedere una cosa Eh? Per vedere come il c***o funziona L'erte La mare che mi parla E tutto Vale? Perché se miro la tele Dice Sono tonteria Stio Ha il bollettino ufficiale Qui dell'estate E io miro L'ultima notizia ufficiale Perché ha la tele Sono tonteria Stio Che dice l'ultimo bollettino Autonomo E stai nella mierda Prepararvi Perché sono c***i vostri Bello Questa è l'ultima notizia Eheheheh Vale vale Andiamo a porco No Vamo A saccare il lavador Ti amo la p***a Ti amo un dolore Che fai Ah si Passate il tempo Ora Passiamo il tempo Vamo alla terrazza Vamo alla terrazzina Questo è stato seco E' l'ultima E' l'ultima E' l'ultima E' l'ultima Voglio vedere Si È un po' oculo Però io tengo soluzione Mira Che troppo Co' come è Mira che mi hai inventato Ti Quando voglio vedere Mira che mi hai inventato Eh Io sono Uno che pensa Guarda che bello, patapin patapam Che? Che parezza? Che intelligenza Questa me l'ha regalato un mico Se puoi averlo chissato in Barcellona Come io lavoravo, ho saputo da aver consultato Ho detto come io, come le ho pagato il biglietto e tutto Meglio questa madre Quanti anni tiene questo? Diez anni Diez anni? Te che sei? Questa è la pubblicità di un tomate che non ve lo insegno Quando inizierà a pagarmi io ve lo insegnare Sto scansato eh? Sto uovo E hai chiesto il forno e questo lavatore E ho disegnato Ora tocca fare un pochino di esercizio Perché l'esercizio è molto importante Tenersi in forma e attivare il corpo Come io non puoi andare al ginnasio Mi ho comprato quattro maricunale qui Per farlo in casa E risulta che a parte tutta la m***a che ho qui Tadopatà Tadopatà Amico Il c***o come ha visto che tenia la barriga Mi regala un apparato Un stimolatore Che mi aiuta a saccare la barriga Io una settimana che lo sto usando va molto bene Ora ve lo insegno eh? Si chiama Si chiama EASFIT 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 Scusate una cosa Questo non è un miracolo eh? Vale? Non è che te lo pones Ah toma un po' il c***o E via la barriga Usando questo Tienes che Un pochino che ti aiuta A saccare la barriga Tienes che essere un'alimentazione Tienes che essere un esercizio Non è che tu lo pones sul sofà Con la cerveza in mano E te quita la barriga No! Tienes ON Per encenderlo Puoi tener 2 programas Uno per rinforzare E uno per stimolare Puoi c'è più o meno E' già sta E' molto facile Mira questo è molto facile da poner Se quita la maritonata questa Se pone Te pone delante del specchio Te lo pones qui E' meglio la barriga Wow! E' già sta On Mira, già sta encendido Programa azul E programa verde Mira, verde e azul Io pongo la azul Perché è più forte Mira, già sta lavorando Joder L'hijoputa Ya trabaja Più 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 il cardio, respirare ora è stato un pochino di estiramento final e cosa a un uomo si ha curato tenia assietà al medico però me l'annullarono a fare la duccia e dopo prepararmi la comida ok? voglio ducciarmi non entro estivo che non entra nella duccia io mi ducciavo ora mi descanso 10 minuti vale? descanso che il corpo si rilacca un po' voglio meditare 10 minuti mentre meditavo vi esplico questo apparello che mi ha regalato amico mi ha gustato molto è consigliato a lavorare con l'impresa ma e per se anche voi volete comprare prenderà un 25% di scuento ponendo un codice e entra nella pagina web che già verrai tutto nella descrizione verrai come funziona cioè hai tre tipi ve lo leggo perché mi hanno invito un'email e io non è che tengo molta memoria hai uno che si chiama body per la pierna e il brazo ora hai uno hip per i glutei e poi c'è l'ABS quello che ho usato io per l'addominale accordarmi un 25% di scuento grazie al puto amo ora descanso 10 minuti questo è solo uovo lo preparo la comida eeeh 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 sono la sdosia eeeh ho detto 10 minuti buono andiamo a preparare la comida che qui non è frutta salata buono vanno a com'è prima lo poniamo il telediario vediamo che notizie danno e spero che sia un buono sempre lo mismo buono sempre mi smacca buono telediario io sto posto mira questo una bella insalata frutta zumo io a me mi gusta il limone allora l'etichetta eeeh per fare una dieta non è che beve nè alcool nè alcool io ci spacco la faccia tutto naturale zumo al mediodia com'è ligero vale una insalatina con nueces pepino poi com'è frutta questa notte questa tardi mirare una pelicola lo fare una media horita di siesta poi me levantare e fare uno uno estiramiento in plan suave giusto per la spalla per che non se quede bloqueata vale comeremo cenaremo la plancha sempre con l'aceite nada di mierda di salsa eh e lo voy a dormir e magnana lo mimo lo mimo lo mimo lo mimo chico manteneremo in forma aprovechar comer sano dentro il foglio che abbiamo passare lo miglior possibile ok se acaba il video e spero che vi abbia gustado come sempre seguimi in instagram per la caia per la caia mi pare che per la caia no per la caia no però per la caia se no vi spacco la faccia e stavessi che vi spacco la faccia e accordarvi di tutto quello che vi dico prima ma le iscrizioni sarà tutto quello che vi dico molto buono per la caia e